Allora, quali sono le nuove sul fronte occidentale delle elezioni italiane? Insomma, è la dichiarazione dei Vescovi di oggi, mi sembra che sia la cosa che ha più eccitato i quotidiani. I Vescovi contro la Lega. In realtà, quello che dicono i Vescovi è... beh, sì, insomma, criticano duramente la parola razza usata da Fontana e i Vescovi italiani parlano delle questioni riguardo l'immigrazione. Io non mi scandalizzo troppo, perché se i Vescovi fanno i Vescovi, cioè se fanno i preti, i sacerdoti, gli ecumenici, beh, è un po' nel loro DNA. Ecco, insomma, è nel gioco delle parti. I Vescovi fanno i Vescovi e i politici fanno i politici, quindi si occupano delle cose terrene, terrestri, ed è forse il principio laico di uno Stato per cui il politico non deve ascoltare il Vescovo se non fuori dalla Chiesa, se non dentro la Chiesa, nel caso fosse e sia un credente. La cosa che più mi stupisce l'intervista di Tosi oggi al Corriere della Sera, non perché io non sappia quello che dice Tosi, ma perché è fantastico vedere plasticamente come il centrodestra non è diviso, è frantumato. Cioè nel centrodestra devono convivere la Buongiorno, cioè l'avvocato di Fini che si candida con Salvini, e Tosi che oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice che Salvini sì che è un razzista, cosa che non è Fontana quello che parlò di razza bianca candidato alla presidenza della regione Lombardia che lui quindi appoggia. Insomma, se il centrodestra si vede dal mattino, cioè dal buongiorno, certamente saranno casini anche se dovesse vincere da solo. Modesto parere, diciamo, di osservatore giornalista. Muore perché si suicida il padre accusato della figlia in un tema di essere pedofilo, cioè di averla violentata, di aver abusato di lei. La madre oggi si scaglia contro i giornalisti, ma c'è un piccolo dettaglio che sfugge ad alcuni giornali ma non a tutti, è che la madre ha detto alla figlia, e questo è emerso da quelle che sono le comunicazioni che sono state fatte dalla stessa madre, e cioè che lei non voleva che la figlia rimanessa da sola col padre. Quindi quando una madre dice una cosa di questo tipo così terribile nei confronti del proprio marito e poi il giorno dopo dice che non c'era alcuna, e se fosse innocente, beh forse io non voglio togliere nulla a questa drammatica tragedia, però in fondo la prima a non credere in innocenze del proprio marito è stata la madre. Diverso il discorso che fa Mattia Feltri oggi sulla sua rubrica sulla stampa dicendo che questa è l'isola degli ignoti, cioè facciamo finta non dicendo il nome e il cognome della famiglia, ma identificandola cinque figli, dove abitano, cosa fanno, cosa è il lavoro del padre, facciamo finta che non si sapesse chi erano, si sa perfettamente chi erano e questa è la gigantesca ipocrisia della giornale che non fa i nomi ma indica i dettagli delle persone che sono oggetto della cronaca giudiziaria in questo caso, drammatica, drammatica fino in fondo, fino alla morte di quest'uomo. Invece su Davos oggi ci si interroga perché è fantastico, i giornali fino a ieri ci rompevano le balle sulla disuguaglianza, oggi me ne occupo sul giornale con un pezzo che faccio sulla flat tax dicendo che quella bagianata che ha detto Renzi è veramente una bagianata, cioè che con la flat tax si toglie i poveri per dare ricchi, è una stupidaggia. Ma la cosa straordinaria è che il mondo che parla di disuguaglianza, oggi celebra Davos, Davos ha una caratteristica, dove vanno i uomini più potenti del mondo perché guidano gli stati, Macron, Gentiloni, May, Trump, il Fondo Monetario Internazionale, tutti i miliardari vanno anche a Davos, quindi c'hai due insiemi che sono quelli per i quali la gente vota Brexit, vota Movimento 5 Stelle, vota Lega, vota Le Pen, cioè li metti tutti e due insiemi, i miliardari, ma miliardari vuol dire miliardari di euro, decine di miliardi di euro, cioè i banchieri, stramiliardari di Goldman Sachs e il gota politico, c'è qualcosa di male in questo? Secondo me nulla, chiaro? Non c'è nulla se non l'invidia sociale, però c'è una cosa che trovo ridicola e che i giornali non trattano, fino a ieri dicevano le disuguaglianze, oggi celebrano leccando i piedi a questi che vanno a Davos, quindi mettetevi d'accordo con i pezzi da ieri, io non celebrerei Davos e non inguaierei il sistema delle disuguaglianze, ma una cosa ipocrita di Davos c'è, e c'è che questi fenomeni miliardari e potentissimi vanno là e spiegano al mondo, cioè ai poveri, cioè a noi, cioè agli sfigati, come deve girare il mondo, ma sono loro che lo gestiscono il mondo, cioè sono miliardari che hanno inventato le cose che hanno rivoluzionato la nostra tecnologia, miliardari che hanno le industrie che contano, potentissimi perché governano il paese e ci vengono a spiegare a noi che cosa, quello che non fanno loro, questa è la gigantesca ipocrisia di Davos, ma che cosa ci state raccontando? Cioè vedetevi, nelle vene di Svizia, io adoro, andate a St. Moritz, andate a ballare al Palace, trovatevi un posto al Dracula, ma non ci rompete le balle spiegando a noi quello che dobbiamo fare noi, posto che siete voi che decidete, banche, industrie e affari, che cosa si fa, questa è la gigantesca ipocrisia e in questa ipocrisia ce n'è un'altra, sapete qual è? È che c'è il campo dei rifugiati, sapete cos'è? È un campo in cui i ricchi del mondo per 20 secondi, un minuto, due giorni potranno vedere come vivono i rifugiati, cioè nelle tende è male, forse fa molto freddo, c'è la neve e sarà un po' più disagiato di quanto prevedevano gli organizzatori, dopo aver fatto il campo dei rifugiati tutti si vola con il proprio eretto privato, non prima di aver fatto sulla scaletta, come i conti della scaletta, la dichiarazione aristocratica per cui si dice non si deve inquinare il paese e Trump è cattivo, quando si prendono e si fanno quelle 5-6 scalette per il proprio falcon, il tema non è il falcon, il tema non è la ricchezza, è l'ipocrisia, chiaro? Questa secondo me è la cosa ridicola di Davos, per tutto il resto io aspiro ad avere i miliardi di euro che non avrò mai per poter andare a Davos con un aereo privato e poter pontificare l'aereo privato che ci vuole meno inquinamento in questo mondo globalizzato. Un aereo privato ovviamente consuma 100 volte, come racconta un bellissimo libro di Michael Crichton, 100 volte la Sphere quanto un aereo di linea. Burioni, Burioni, detto anche Borioni, non si candida nel PD e grazie, andava a perdere probabilmente. E cosa succede? Borioni in un'intervista oggi dice che non sono contro il PD ma sono a disposizione del Paese, avete capito? Chiaro, no? Non mi fate fare questa seccatura di andare nei collegi nominali a vincere le elezioni che non è neanche detto che lo vinca, tra l'altro Borioni, molto amico anche del centro-destra, ma sapete qual è il tema fondamentale? Quando voi farete il governo e il Presidente, come dicono tutti, io sono il perfetto Ministro della Sanità, vedendo la Lorenzin può anche darsi, ma forse tra i due la Boria di Borioni è decisamente superiore. Fini finalmente rinviato a giudizio. Io godo, lo godo, sapete perché godo? Non perché voglio che Fini vada in galera, non me ne frega assolutamente nulla, ma vi ricordo questa storia, nel 2008 Fini vende un appartamento che era del Movimento Sociale Italiano, donato da una donna che era molto legata al Movimento Sociale, italiano vende alle società delle Antille olandesi e queste società delle Antille olandesi erano sostanzialmente del fratello e della moglie, di Fini, della moglie di Fini e di suo fratello, i famosi Tulliani, lo vende per un prezzo ridicolo, tanto che dopo viene rivenduto quell'appartamento con un grande guadagno. A n'eredita, Fini vende a un prezzo ridicolo e lo vende a sua moglie e a suo fratello schermati dalle Antille, dalla società offshore delle Antille olandesi. Bene, c'è anche un altro elemento, chi ha dato i soldi alla signora Tulliani che non ha una lira e al fratello Tulliani che non ha una lira, non c'ha arte né parte, oggi è latitante a Dubai, chi gli ha dati questi soldi? Un certo Corallo, amico di Fini di antica data, secondo l'accusa di un parlamentare di Enne, la boccetta, conosceva Fini dal 2004, ci sono le foto di Fini e Caraibi con questo Corallo e Corallo è un latitante che ha investito parte dei suoi milioni guadagnati illegalmente con le slot machine anche nella politica e soprattutto pare, secondo l'accusa, dando i soldi ai Tulliani per comprare l'appartamento che era posseduto da Fini. Questa è la storia, chi ve l'ha raccontata questa storia? Il giornale. E il giornale oggi ricorda poco, secondo me, io l'avrei fatto di più, un po' lo fa Vittorio Feltri, un po' lo fa Gianmarco Chiocci con una lettera al giornale, molto lo fa anche Chiocci sul Tempo, oggi è il giornalista del tempo, come siamo stati appresi per accarci nel culo noi giornalisti del giornale per aver tirato fuori la questione di Fini. Ci hanno trattato come se fossimo la macchina del fango, è stato rinviato a giudizio, abbiamo aperto un porcaio, era il presidente della Camera. Bene, questa inchiesta che è solidissima, solidissima, perché lo stesso Fini, indipendentemente dalla condanna, ha ammesso di aver saputo che quella casa era della moglie. Vi è chiaro? L'ha ammesso! Bene, questa inchiesta in realtà si compone di alcuni colpevoli o presunti tali che hanno detto un sacco di menzogne. Fini, difeso dall'avvocato Buongiorno, oggi alleata di Berlusconi e che ci trattava come se fossimo degli appestati e poi si compone da quella società civile giornalistica che ci ha considerato a noi degli appestati e non potevamo andare nelle trasmissioni televisive perché eravamo macchina del fango, qualsiasi cosa che noi si dicesse era sbagliata, mentre loro facevano le grandi inchieste basate sul nulla, De Benedetti, Cairo, Berlusconi, tutti i grandi poteri, secondo voi sono stati presi di mira? No, solo uno, Berlusconi, tutto il resto, Fini e compagnia cantante, è completamente, come possiamo dire, fuori da ogni tipo di inchiesta. Noi ne facciamo una, probabilmente non vi è piaciuta perché era su Fini? Va bene, però era tutta quanta documentata. E quando oggi leggo il rinvio al giudizio, quindi godo, ma non perché Fini vada in galera, godo per quelle facce da tolla o di tolla che oggi fanno i giornalisti e fischiettano e parlano ancora di Fini e a noi ci consideravano delle merde. Santoro, uno di questi che ci prendeva un po' in giro, però è il più grande giornalista televisivo che oggi esiste in Italia, si sente Berlusconi. In un'intervista al Foglio dice che si sente Berlusconi, ho grande stima di Santoro, ha costruito la sua carriera contro Berlusconi e oggi dice che mi sento come Berlusconi, un anziano saggio. In realtà gli piacerebbe a sentirsi come Berlusconi perché a differenza di Berlusconi Santoro non è più sulla cresta dell'onda. Mi spiace perché comunque fa la televisione meglio di tanti altri e Berlusconi invece rischia di vincere ancora le elezioni. Richmond, cioè la catena che è proprio Svizzera, che è proprietaria tra le altre cose di Cartier, si compra una delle poche grandi aziende italiane della tecnologia, Jux, il mercato online dei vestiti di moda e non solo, fondato da Federico Marchetti, in questo caso veramente in un sottoscala di Bologna. Paga la società, valorizza la società 5 miliardi e mezzo, Marchetti dice che la società rimarrà autonoma e italiana, io ci credo poco perché quando entri a fare parte di un grande gruppo come Richmond in realtà è difficile mantenere la propria autonomia, Marchetti ci spera. Quello che è importante è che questi sono, sì, probabilmente una grande azienda italiana molto più importante di quelle per cui noi piagnucoliamo che va all'estero perché queste sono le società che domineranno il futuro probabilmente, mentre quelle che sono andate all'estero negli anni passati dominavano il passato, ma erano dei grandi marchi. Quello che voglio semplicemente dire è che dobbiamo essere abbastanza contenti che un uomo, una persona, un imprenditore, un bolognese ha creato 5 miliardi di valore perché tanto è stata valutata oggi la società in pochi anni, questo conta. Poi, insomma, la forza di un paese è creare una Jux al giorno, ma non è questo il caso italiano. Vi do appuntamento questa sera con Matrix, come sempre alle 19 su Radio 105 e stasera in televisione. Ciao!